Buonasera, voglio rispondere a diversi amici, non solo virtuali, ma anche amici reali che io ho qua a Giuliano, in provincia di Napoli, Napoli e zone limitrofe, su un tema che spesso io faccio finta di non capire, di non sentire, ma che esiste ed è giusto dare una risposta. Un attimino che prendo un po' di caffè. Allora, da molto tempo a questa parte, non solo che non si fa più sesso come lo si intendeva negli anni 60, 70 e soprattutto 80, ma si è instaurata nella mente della gente un tipo di pensiero che è costruito grazie ai tempi che viviamo. Quali sono questi tempi che viviamo? Sono i tempi del portafoglio facile, dei soldi facili per chi ce l'ha e le persone per avere questi soldi facili farebbero salti mortali, farebbero pazzie, vanno a rubare, vanno a truffare, fanno di tutto, se ne vanno in politica e così via. Cioè, nella mente della gente si è instaurata l'idea fissa che se uno non ha i soldi, non solo non può comprarsi come è giusto che sia una Ferrari, ma non si può permettere neanche una trombata, come magari è giusto che sia senza che ci siano i soldi di mezzo. Allora, io ho affrontato gli anni fine anni 70 e pieni anni 80. devo dire che le donne per me sono state non un problema, ma un'ossessione, perché io avevo bisogno di queste donne. Qualcuno può dire, ma da un punto di vista prettamente fisico, sessuale, la risposta è no, non era proprio questo il mio intento e per ben quasi 20 anni io non ebbi più un amico maschio tra le mie amicizie, ero sempre tra le donne, parlavo con le donne, trombavo con le donne e chiacchieravo con le donne. Il mio mondo era entrato proprio nel mondo delle donne. Poi sono entrato come capovillaggio a 25-26 anni, grossomodo, e sono stato per tantissimi anni, sia prima che dopo, sempre più a contatto con le donne. E cosa vuol dire? Vuol dire qualcuno. Vuol dire tanto. perché un bel momento, dato che ognuno di noi ha delle tendenze, soprattutto spirituali, io intendo le tendenze culturali, spirituali, mentali e così via, che sono diverse a volte queste tendenze dalla massa. E la mia tendenza primaria qual era? quella dello studio. E nel momento in cui io sono entrato a contatto con le donne, queste donne sono diventate anche loro oggetto di studio. E vi posso dire che studiare le donne o stare dietro le donne è una delle cose più difficili della vita. a volte magari si costruisce un ponte, a volte magari si costruisce un missile, si fa partire un missile, si va sulla luna, ma spesso e volentieri quello che sta dicendo, facendo una donna, non la si capisce prima, né durante né dopo. Questo è poco ma sicuro. E allora, ripeto, per me la donna era diventata, grazie a queste mie tendenze allo studio, anch'essa oggetto di studio. E lentamente in me è scattato un principio, poi una sfida, ma prima di tutto era un principio. E qual era questo principio? che io dovevo entrare in contatto con questa donna e dovevo avvilupparla, cioè entrare in simbiosi, mentalmente, eventualmente dopo fisicamente o sessualmente. Non so se sono stato chiaro. Cioè per me non esisteva il sesso occasionale a primo colpo di botto, come si suol dire. Non esiste. E' successo soltanto una volta. E ora vi spiego come. Mi ricordo che tutte quelle donne che io... No io, bontà loro, perché se una donna non voleva, io non potevo farci niente. Si entrava in simbiosi mentalmente che poi passare all'atto sessuale, certo, dopo tanto tempo il periodo era breve, si passava all'atto sessuale dopo dieci minuti, un quarto d'ora, perché il lavorio mentale era talmente forte, già che io stavo notte e giorno con le donne. E perciò della donna sapevo tutto, oltre che per me era oggetto di studio. E il mio obiettivo era quello di entrare prima nella mente della donna. Prima dovevo entrare nella mente, dovevamo entrare in simbiosi. Lei doveva essere io, me, e io dovevo essere lei. Doveva essere un tutt'uno. Dopodiché si passava al sesso, che il sesso veniva automaticamente. È come se io lo stesse facendo con me stesso e lei con sé medesima. Non so se sono stato chiaro. Questo mio principio mi ha portato a stare con tutte le donne. Perché, ripeto, essendo un tizio che non amava l'amore occasionale o di botto, io con qualsiasi donna dovevo prima entrare in un rapporto mentale proprio di simbiosi. Come pensava lei, dovevo pensare io e viceversa. E tutto il resto veniva automaticamente. Questo mi ha dato la fortuna e la possibilità di poter conoscere, sì la contadinotta che te la dava con due o tre paroline, basta dirle che era buona, basta dirle che aveva il culetto bellissimo, basta dire che era una cazzata qualsiasi, non capiva niente e te la dava. Ma quando ti trovavi di fronte una dottoressa? Quando ti trovavi di fronte un'ingegnere donna? Quando ti trovavi di fronte una ricca e colta ereditiera? E così via. Come la mettiamo? Allora, quando entravi in contatto con questi mondi diversi, già la donna è un mondo difficile di per sé, ma poi trovare la donna colta è un mondo incredibile che veramente ci vuole il paracadute per poter andare dentro e vedere tutto quello che succede. Io grazie a Dio avevo questa possibilità, avevo questa opportunità perché era anche il mio lavoro. E poi ripeto che stare con la donna per me era lei oggetto di studio, perciò era un qualcosa di meraviglioso. Ripeto, che ha avuto queste fortune potrebbe putarsi oggi ricchissimo. E voglio smentire coloro che sono stati anche i miei compagni, soprattutto non quelle di Giuliano, di Napoli, di qua, ma qualcuno della mia lontana Capodorlando, che ormai non vedo più da oltre 15 anni, che qualcuno possa pensare che Antonio Adamo non va più con le donne perché si è sposato e non è oggi all'altezza in quanto anziano. Questo è tutto vero, io sono anziano, ho più di 60 anni, vado per gli 70. Però attenzione, vi faccio presente che io se devo oggi conquistare o stare con una donna, riuscirei a fare lo stesso cammino che facevo quando avevo 20 anni. Sessualmente non ve lo posso, come dire, non vi posso dire che andrò al 100% come facevo a 20 anni, questo non ve lo posso garantire, questo è poco ma sicuro. Però riuscire a inglobare mentalmente una donna, volendo, ma io non ho nessuna voglia, perché una volta che mi sono sposato per me questo mondo è finito, perché io vivo di principi. Ma se io lo dovessi fare per dimostrare scientificamente che posso ritornare, minimo con una ragazza di 30 anni, attenzione, perché sotto i 30 anni potrebbe essere una mia figlia e andiamo nella perversione, minimo deve essere 30 anni. Se lo dovessi fare come un atto scientifico, dimostrativo, io sono pronto a farlo e sono convinto di riuscirci come ci riuscivo allora, perché io allora certe volte pensavo che dovevo conquistare per forza mentalmente queste donne, perché mi dovevo preparare alla vecchiaia, come se io ero già un vecchio, perciò conquistare una donna mentalmente veramente vuol dire conquistarla, ma andare con una donna da un punto di vista fisico è offensivo per la donna e anche per sé medesimi e soprattutto è squallido, tutto qua. Dice, la domanda è ma ti è andata bene con tutte, migliaia e migliaia di donne? No, io sono sincero. C'è stata qualcuna che è uscita fuori da questo, dove questi primi due stati non si sono colmati al 100% e vi racconto il fatto, è stato verso 22-23 anni, ero a Gioiosa Marea, come molti conoscono, ora esempio, la grotta di Enea non esiste più, io la ero ogni sera nella grotta di Enea, ero nel villaggio Capo Calavà, ero indirettamente, perché direttamente sono stato l'anno successivo che poi loro mi hanno mandato e sono diventato capovillaggio in Toscana. Però ero uno, facevo parte soprattutto la sera in discoteca, perché di mattina, di giorno non ero disponibile, stavo fuori. E allora si presenta una ragazza, si chiamava Giulia, non lo posso dimenticare, dalle parti di Torino, mi sembra che era di Torino, una ragazza formosa, a prima vista una bomba. Poi, giustamente, dato che i miei rapporti non erano come tanti miei colleghi, chiamiamoli colleghi, ragazzi della mia età che partivano per mettere la mano in mezzo alle cose, queste cose per me non esistevano. Per me ci doveva essere prima un dialogo, un dialogo continuo, forte, spregiudicato anche, cercando di confidarci tutto e di più e diventare un tutt'uno mentalmente. mi sono subito accorto che questa ragazza non era una qualsiasi, era una ragazza a parte che era laureata, ma era una ragazza che era psicologa e stava diventando psichiatra perché le mancava l'ultimo, non so se era esame, che cosa doveva fare, perché già lavorava in ospedale. Allora, cosa è successo? in questi dialoghi continui di questi due o tre giorni, perché lei non stava nel villaggio Capocalavà, era sulla spiaggia di Capocalavà, chi conosce bene quelle zone, ma lei era invece a Geosa Marea in un alberghetto e per tre giorni consecutivi ci siamo visti a Capocalavà. Il quarto giorno dopo tutte queste discussioni cosa era successo? Che lei mi vedeva come un paziente, e voleva spiegarmi o dimostrarmi che quel modo di fare con le donne che io avevo continuo, massacrante, martellante, era un qualcosa di negativo, di anomalo da curare, in poche parole. Io invece cosa avevo capito dall'altra parte, dato che avevo un'esperienza, a parte gli studi che facevo, che ho fatto, che continuo ancora a fare e così via, che lei era in quelle condizioni molto chiusa, molto bloccata, perché lo studio l'aveva completamente atrofizzata, da un punto di vista sentimentale e sessuale. Perciò fra me e lei è nato un braccio di ferro, certo non detto apertamente, però lei mi voleva curare, io le volevo dimostrare che il suo modo di fare non andava perché era lo studio che aveva inciso negativamente nella sua mente. sono stati tre giorni di dialogo, vi lascio immaginare a non finire, abbiamo parlato di tutto, di filosofia, di matematica, di tutto, di gossip, di tutto, di tutto, di sesso, tutto in maniera teorica. Lei mi studiava in un modo e io la studiavo in un altro. Un bel momento, forse ho toccato qualche tasto e lei effettivamente si rese conto che quel modo di essere contratta non era una cosa normale, soprattutto per una ragazza che aveva già 24-25 anni, aveva qualche anno più di me forse, eravamo coetanei, se non lei forse aveva qualche anno più di me, dimostrava di più forse perché essendo una dottoressa si metteva più in mostra quando eravamo a parlare e stavamo sotto l'ombrellone. Un bel momento, il quarto giorno mi invita a gioiosa. Io mi ero fatto un ragionamento però avevo capito che era una situazione durissima, una situazione difficile da superare, difficile da poter riuscire a raggiungere per la prima volta questo primo stadio di questa simbiosi mentale per poi passare a quella fisica. Però come per come dite un principio professionale possiamo dire anche perché a me piaceva fare quello perché sapevo di dover entrare nei villaggi, di avere sempre le persone davanti, di sbatterci la testa perciò diventava anche una sfida senza nessun un po' ormai con le armi abbassate non avevo più nessuna intenzione avevo capito che la cosa era impossibile da realizzarsi invece cosa succede? Questa mi invita in spiaggia a Gioiosa e poi mi dice Antonio prima di ritornare perché poi la sera ritornavo a Capocalavà dice se tu questa sera dato che sei da quegli amici là dove ti fai la doccia che ti fanno un casino ogni sera te la vuoi fare da me non ci sono problemi. Quando lei ha detto questo io ho capito che dentro la sua mente si era sbrinata qualcosa qualcosa era saltato e avevo capito che senza saper leggere e scrivere voleva darmi una dimostrazione che lo studio non l'aveva per niente bloccato e che se lei si era comportata in quel modo lo aveva fatto volontariamente invece non era così invece non era così allora diventava di colpo come un rapporto occasionale cosa che nei miei principi non esisteva quando lei mi offrì la stanzetta le disse due o tre parole ho detto Giulia non ti offendere tu sei una persona istruita io sono penso di essere anch'io istruito perché giustamente là c'erano università di me studia non finire eppure io ero istruito siamo istruiti non siamo due cretini però ti posso dire una cosa quello che stai facendo non rispecchia la tua non volontà perché quello che stai facendo lo stai facendo con volontà non rispecchia la tua natura che è ben diverso e io volevo vedere la tua natura non quello che tu mi vuoi dimostrare attraverso la tua volontà questa è rimasta bloccata detto Antonio scusa ma tu oltre i tuoi studi di lettere filosofia hai studiato anche psicologia queste cose qua ha detto guarda Giulia a te non interessano queste cose io i miei studi è l'unica cosa di cui sono un po' geloso e meno ne parlo e meglio è noi abbiamo gli studi nella mente che ci meritiamo poi ci sono quelli che si fanno studi da sé io appartengo a uno che va a fare a volte studi personali questo a te non te ne frega niente però penso di averci entrato lei è stata onestissima mi ha detto Antonio hai centrato perfettamente e cosa vuoi fare niente ha detto Giulia io ti abbraccio ti saluto tu dopo domani parti io domani ho un'escursione devo andare alle isole perché andavo con la motonave ha detto non ci si vede più come dicono a Firenze mi dispiace è stata una bellissima avventura non si è fatto niente invece si è fatto tanto ha detto Giulia tantissimo perché ci siamo capiti ci siamo smascherati ci siamo dette le cose più belle magari che magari in altri momenti uno non dice a nessuno e forse siamo più leggeri non abbiamo più quelle quelle cose quella zavorra certe volte mentale che ci distrugge tu sei una che fa questo lavoro con la speranza che tu possa essere più libera più leggera perché non è detto che uno perché fa lo psicologo o lo psichiatra non sia anche egli vittima di qualche cosa e nel contempo paziente tutti siamo pazienti perché superare delle cose con la mente lo dobbiamo fare fino all'ultimo giorno dei nostri giorni mettetelo bene in testa non è che tu arrivi a 70 anni a 80 anni hai capito tutto no a 70 80 anni hai tanti di quei guai che come li avevi a 20 e come li avevi a 15 a 10 e così via mettetelo bene in testa lei è rimasta sbalordita mi ha detto Antonio se tu vuoi venire a Torino con me quella aveva perso la testa quella aveva perso detto cosa hai detto Giulia detto non continuare perché potresti dire delle delle stupidaggine sono in questo momento di circostanza che la mente ti dice così cerca di tornare in te lei aveva visto un qualcosa che durante i suoi studi non aveva mai trovato mai visto ed è rimasta sbigottita aveva perso la testa io a quella ragazza se le dicevo voglio andare sulla luna lei partiva e mi preparava tutto il missere e mi portava sulla luna avete capito quali erano i miei rapporti con le donne io lo voglio dire a tanti ragazzi che mi fanno le battute dice ormai sei vecchio indubbiamente io vado per i 70 anni come gran parte dei miei coetani che sono stati compagni di gioco di scuola e così via siamo ormai che qualcuno possa pensare che oggi a quest'età solo il portafogli il portafogli proprio pieno di soldi possa portare avanti il rapporto con le donne se sbaglia di grosso non è così non è così perché chi accetta il rapporto prettamente sessuale è un prostituto o una prostituta io non sono stato mai un prostituto qualcuno mi dice non sei stato un prostituto dopo migliaia di donne sì non sono stato un prostituto perché a darmerla erano alla fine erano loro che me la davano deliberatamente io non l'ho mai chiesta non l'ho mai chiesta erano loro che si aprivano apertamente avete capito perciò non mi sono mai considerato un prostituto pur avendo fatto la vita da prostituto non so se sono stato chiaro tutto qua ognuno di noi ha queste oggi dici ma tu se dovessi sì se io dovessi fare per dimostrazione scientifica perché dopo che mi sono sposato io ho chiuso una parete chiusa io sono rimasto da questa parte non me ne fotteva proprio niente non è che io non sono andato più con le donne perché non volevo tradire mia moglie queste sono puttanate puttanate di persone così terra terra qua a Giuliano si sposano a vent'anni sapete perché perché le famiglie questi tizi le mettono insieme le famiglie sanno che hanno le proprietà vicino o vicine e perciò poi li mettono insieme questi ragazzi si sposano giovanissimi e giustamente quando arriva poi soprattutto l'uomo perché qua la donna come comincia a avere un figlio il marito non lo guarda più in faccia perché c'è quest'andazzo è in gran parte delle zone del sud succede questo poi il marito ha 45 io ne ho tanti di questi amici cosa fanno? sono con il portafoglio in mano che pagano russe ucraine cinesi pure cinesi c'è un mio amico che va a cinesi ho detto io scusa non mi viene da ridere andare con una cinese io perché avevo poche donne straniere nel mio nel mio cardè perché avevo poche perché quando andavo con una con una svedesi ci sono andato ma saranno stati un centinaio non di più era una sofferenza era una sofferenza perché ti poteva ricompensare soltanto la figa c'è il fisico di quella donna poi non dicevo un cazzo non parlavo neanche una parola e per me non parlare perché si doveva parlare anche trombando era un sacrificio immenso un sacrificio immenso e questo va con una cinese che cazzo devo dire a una cinese ho detto io l'altra volta si chiama Sebastiano ho detto Sebastiano cioè non mi fai ridere tu dici che fai con la cinese e quanto ti costa no ha detto no i prezzi sono modici come sono modici ho detto e quanto state insieme un quarto d'ora un quarto d'ora cioè immagino la macchina neanche cinque minuti certo che cazzo devono dire i cinque minuti ma io il fatto di andare con una cinese mi fa impazzire che cazzo io qualche volta entro in un negozio di cinesi qua ne abbiamo a Iosa io sotto casa mia ce n'è uno che spesso vado ci conosciamo lui lui si chiama Michele si è preso pure un nome un nome italiano però c'è la sorella non so chi è la moglie se tu dici qualcosa fanno finta che non capiscono più se non devi comprare non ti capiscono più immagino che si fanno diciamo se fate il sesso e uno vuole dire due parole anziché per un cazzo bene ragazzi io ora vi saluto questa era una mia puntualizzazione oggi purtroppo il sesso è passato proprio in seconda mano cioè in seconda fase oggi voi pensate all'alcol pensate agli amici pensate a divertirvi a dire puttanate la cultura purtroppo è quella che è al sesso ci pensate poco guardate io ho guardato attentamente questi questi cambiamenti radicali tra la mia generazione e i ragazzi d'oggi in cui c'è pure mio figlio che non è cretino è un ingegnere ha 27 anni si è laureato a 23 però le torne per lui sono state occasionale ancora non ha avuto una donna con cui ha diviso gran parte dei suoi momenti della sua vita io devo essere sincero molto sincero questi ragazzi qua che pigliano la vita in questo modo senza che il sesso il rapporto sentimentale sessuale diventi un'ossessione come era per tanti di noi negli anni 80 veramente un'ossessione io li invidio non ho mai invidiato niente a nessuno però questi ragazzi li invidio perché forse hanno capito tutto perché poi se ci ragioni dopo tanto tempo sì sono stato per 20 e più anni solo con donne non avevo più amici maschi ma se il mondo della donna è quello che è io sono andato dietro alla donna e al mondo della donna onestamente certe volte ad esserne sincero me ne vergogno però non lo dico qualche volta mia moglie mi fa qualche battuta ma ci hai pensato mai dici che noi siamo noi donne lo dice lei in maniera così per battuta siamo delle stupide bastano due cosine che ci dicono due cose e noi ci caschiamo e tu te ne sei andato dietro la stupidità delle donne sì è vero per 20 anni me ne sono andato dietro la stupidità delle donne ma lo dico in senso buono perché la donna è un mondo meraviglioso meraviglioso io non penserò mai una cosa del genere perché quando io ero sempre giorno e notte con le donne mi sentivo molto più forte molto più foglioso anche mentalmente perché la donna se la stimoli non sessualmente se la stimoli mentalmente ha una marcia in più e lo dico con sincerità la donna sotto sotto è più intelligente di noi è perché noi la donna l'abbiamo trattata sempre come una schiava l'abbiamo trattata come i talebani noi la donna l'abbiamo trattata sempre come fanno i talebani perché la donna onestamente è una risorsa io sono convintissimo che se esce fuori l'intelligenza della donna e mi batto da una vita affinché tutto il Parlamento italiano con tutti quei buffoni che ci sono diventi tutto al femminile tutto Senato e Camera tutto al femminile e sono convinto quando tutti tutti là a governare saranno donne le cose andranno meglio molto meglio rispetto ad oggi alle puttanate che fanno oggi a voi tutti buon pomeriggio